Se pensiamo all'universo, dobbiamo pensare a qualcosa di enorme, gigantesco. In tutto il sistema galattico ci sono più di 200 miliardi di pianeti, una cifra astronomica. Nel sistema solare ci sono Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. E inoltre tanti altri piccoli pianeti. Noi viviamo su uno di essi, la Terra. I fenomeni naturali che avvengono su questi pianeti sono infiniti. Grazie a tutti.